Amici milanisti, questo è il TG di AC Milaninside. Pensavo di non arrivare più a pronunciare queste parole, ma è fatta per Emerson Royal. L'accordo tra il Milan e il Tottenham si è concluso per una cifra di 15 milioni di euro più bonus. L'esterno adesso è il brasiliano, coprirà il vuoto lasciato da Florenzi, che ricordiamo essersi infortunato e che non rientrerà prima di diversi mesi. Emerson indosserà la maglia numero 22, dovrebbe arrivare in Italia già domenica e per la giornata di lunedì sarebbero già state fissate le visite mediche. Il giocatore non ha un passaporto dell'Unione Europea, per cui sarà il secondo e ultimo giocatore che potrà essere registrato da Milan. Piccola novità, è slittata di qualche ora la chiusura della sessione stiva del calcio mercato, che passerà dalle ore 20 alle 24 del 30 agosto, mentre si starà giocando Inter Atalanta. Ieri abbiamo visto la presentazione di Pavlovich nella sala conferenze di casa Milan. Gli hanno subito chiesto le sue caratteristiche ed ha detto di considerarsi un giocatore aggressivo. Atteggiamento che possiamo dire essere stato anche di Sam, con il quale subito è partito il confronto. Una delle cose che gli accomunano è il numero di maglia. Il serbo infatti ha scelto il 31 che già indossava al Salisburgo. Come ultima cosa, ma non per importanza, vi lascio qualche numero. 300 presenze con la maglia del Milan, 126 gol. Il giocatore italiano che ha segnato di più nelle competizioni UEFA può essere solo lui. Oggi è il compleanno di Pippo Enzaghi. Come festeggiarlo? Potremmo citare le sue reti più belle nei commenti. Inizio io, perdonatemi se sarà scontato, ma parto con una data, 23 maggio 2007. Super Pippo entra nella storia e con la sua doppietta ci porta a casa la Champions. Tra parentesi, il video della sua risultanza è uno dei più belli di sempre. Sperando che questa puntata vi sia piaciuta, vi do l'appuntamento per domani.